Sono in compagnia degli squatters di Cadimare, si è parlato tanto di questo lancio della bottiglietta verso la Timoniera delle Grazie e fatto che poi ha comportato anche la squalifica della vostra borgata durante la prepaglio di Muggiano. Che cos'è accaduto? Allora, diciamo che siamo stati accusati di essere un tifo violento, di essere un tifo nocivo per quello che riguarda sia la borgata sia il palio stesso ed è una cosa che ci ha fatto molto male. Queste parole vanno usate con molta attenzione. Sul discorso della bottiglia è bene fare chiarezza perché tutti noi siamo in possesso di una prova che ci scagiona da qualsiasi accusa. La persona stessa che è stata refertata per essere stata colpita da questa bottiglia tramite messaggio di testo scagiona agli scuotes 99 o qualsiasi altra persona abbia potuto lanciare questa bottiglia da essere stata colpita. Quindi questa è una cosa che deve passare chiara, decisa. Non siamo mai stati un tifo violento, siamo un tifo rispettoso della borgata. Siamo stati un tifo sempre a servizio del paese, sempre a servizio della manifestazione che è una cosa bellissima. Qui ci sono bambini, ci sono persone che hanno 20 anni, ci sono persone come me che hanno una figlia e che di certo non si sognano di andare a legare per fare qualsivoglia violenza. Siamo padri di famiglia, persone che vanno dai 15 ai 60 anni, che erano tutte sulla barca con noi domenica alla regata. Cosa avete fatto dal 99 fino ad oggi per la borgata di Cadimari? Certamente, è un gruppo che nasce 24 anni fa, è un gruppo che nasce dall'entusiasmo, dalle viscere di un paese, da sentirsi a casa, da sentirsi cadamotti, sempre a servizio della borgata e dal quale sono nati anche altri gruppi di altre borgate di cui oggi il palio si può vantare, perché oggi il palio è delle borgate, è delle società, ma è anche tantissimo della gente, della spezia e dei tifosi che la compongono. Gli Squatters 99 sono chi sono? Sono quelli che, quando magari le strutture non sono sufficienti, quando magari anche i soldi a volte non sono sufficienti per attrarre qualcuno nella borgata, allora è un po' come i Ghostbusters, chi chiamerai? E allora chiami gli Squatters 99, che devono partire per far vedere che a Cadimare c'è la passione, c'è folklore, che a Cadimare, vogare a Cadimare è qualcosa di speciale, ecco, e questo lo dobbiamo trasmettere noi, quando fa comodo però, quando invece le cose vanno male, allora veniamo aditati di essere degli pseudo tifosi, questa cosa qui è gravissima, perché se un vogatore non funziona e viene cambiato, se l'allenatore non funziona ed è sacrosanto cambiare, questo è il potere della società, quando la società non funziona, di chi è la fibra morale, chi è che ha il dovere morale di fargli notare che i risultati sono al di sotto delle aspettative e che il Cadimare merita di stare in altre posizioni, chi è che deve alzare la voce? Qui ci troveranno sempre su questa linea, a favore del paese, a servizio del paese, ma anche a fargli notare quando le cose non funzionano. Quali sono attualmente i rapporti con la società e da che cosa nasce proprio questa frattura? I rapporti sono ormai, vorrei dire logori, ma ormai siamo a uno strappo deciso e completo. Gli ultimi avvenimenti di paese, che magari non è forse il caso di discutere qui, che sono avvenuti martedì sera, con dei comportamenti da parte di chi ci accusa di essere violenti, che sfiorano appunto la violenza, venire alla sera, alle due di notte, a ringhiare davanti alle persone e a, come chiamiamo noi affettosamente, gli scuotterini, ragazzi piccoli, colpevoli di che cosa? Di aver affisso un cartello con sopra i piazzamenti e i tempi degli ultimi dieci anni di gestione? Questa è la loro colpa? In risposta di questo, molti genitori di questi ragazzi hanno ritirato i loro figli dalla sfilata. Questa cosa qui verrà sicuramente ricordata come un anno brutto, come è stato il 2017, quando abbiamo scioperato e non siamo andati alla Morin. E sicuramente succederà quest'anno, perché lo strappo è insanabile. Meritiamo una gestione diversa? Che arrivare siamo noi! Che arrivare siamo noi!